...a facoltà di rosserare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente. E ora democrazia solidaria, il centro democratico. Sì, ministro, raccomando di nuovo la sua attenzione alla questione del riacquisto della cittadinanza da parte di italiani che l'hanno perduta recandosi all'estero. Come ministro degli interni, lo ricorderà sicuramente, mi aveva mostrato ampia disponibilità pur facendomi notare alcuni ostacoli che venivano dal Ministero degli Esteri. Si tratta di permettere a chi è nato in Italia, che magari ha fatto pure il servizio militare, di riacquistare la cittadinanza, quindi di riconoscere anche sul piano giuridico quello che di fatto già sono, e cioè italiani. Sono orgogliosi di essere italiani, sono italiani come me e come lei. Non possiamo abbandonarli. La politica deve essere in grado di ascoltare la loro voce, quella di italiani che hanno dovuto lasciare la nostra terra per guadagnarsi da vivere altrove, facendoci onore e diffondendo la nostra cultura nel mondo. Sono parte del nostro sistema paese, della nostra storia e della nostra identità, come noi della loro. Dunque le chiedo, signor Ministro, se intravede per loro la possibilità di recarsi presso il Consolato per ottenere la cittadinanza senza il soggiorno di un anno in Italia. Grazie. La ringrazio.